buongiorno a tutti e ben ritrovati io sono giulia volontaria dell'associazione uniamoci hollus e voi siete in diretta sulla pagina facebook di uniamoci hollus allora siete qui appunto per un'altra lezione del nostro corso di inglese allora vediamo un poco oggi siamo arrivati alla alla lezione numero 13 per quanto mi riguarda il 13 è un numero fortunato ma comunque oggi di che parliamo allora vi mostro come sempre la mia fantastica lavagnetta che a quanto pare riscuota è molto successo quindi piace a molti allora come vedete oggi parleremo delle previsioni meteorologiche quindi le previsioni del tempo allora intanto aspettiamo magari che qualcun altro arrivi ecco intanto ciao carlo allora dunque le previsioni del tempo ovviamente stiamo parlando ragazzi del tempo atmosferico ciao fabiana allora ma come si dice le previsioni del tempo le previsioni del tempo si dice the weather forecast ciao eleonora ciao vincenzo dolce tanti auguri vincenzo ciao flaviana the weather forecast quindi le previsioni del tempo ovviamente ragazzi ricordiamoci il tempo atmosferico non il tempo inteso come ore minuti secondi eccetera eccetera quindi adesso diciamo che questo è uno di quegli argomenti di cui vi potreste ritrovare a parlare con per esempio una persona che non conoscete ovviamente diciamo quando non non si non si conosce una persona sia un po più di difficoltà ad avere delle conversazioni è solitamente una delle prime conversazioni neutre sono il sono quelle riguardanti il tempo dolce vincenzo ci dice ciao oggi faccio 39 anni tanti auguri vincenzo tanti tanti auguri quindi andiamo a vedere appunto come si parla del tempo è la domanda iniziale ovviamente quella che faremmo tutti è che tempo fa quindi ragazzi che tempo fa come si dice che tempo fa si dice mi raccomando non come pensano in tanti che non si dice how is the weather quindi non si dice how is the weather perché quello vuol dire vorrebbe dire come sta il tempo e non è non è corretto quindi per fare la descrizione proprio del tempo per chiedere la domanda è what's the weather like ciao silvia quindi what's the weather like ricordatevi ragazzi th qui e th qui hanno questa volta lo stesso suono the quindi il suono sarà the la risposta quale sarà la risposta sarà it's e poi ovviamente la descrizione del tempo che adesso andremo a vedere la stessa cosa ragazzi per quanto riguarda la temperatura ovviamente magari già sappiamo il tempo il tempo che fa però noi vogliamo sapere magari la temperatura ci interessa la temperatura e allora diremmo what's the temperature like what's the temperature like ricordatevi ragazzi what's è già qualcosa che noi abbiamo visto parecchie volte ormai what's come sappiamo è quindi l'apostrofo con la s è il verbo essere nella sua forma contratta che diventa what's e leonora ci dice it's sunny today esattamente allora ciao martina adesso andremo a vedere un attimino tutti i vari tempi come si dicono allora se noi vogliamo dire per esempio ovviamente ragazzi ho fatto anche il disegnino per aiutarvi a capire se noi per esempio vogliamo dire per esempio c'è sole oppure è soleggiato diremmo it's sunny it's sunny appunto significa che c'è il sole ovviamente oggi ragazzi it's sunny poi ma che cosa succede quando per esempio è nuvoloso quindi come qui c'è il sole coperto quando appunto c'è il sole coperto e quindi è nuvoloso quello che noi diciamo è cloudy quindi cloudy cloudy it's ovviamente ragazzi it's sempre cloudy cloudy perché cloud sta per nuvola quindi cloud significa nuvola quindi cloudy nuvoloso ma adesso ciao davide adesso andiamo a al tempo dove avremmo la pioggia quindi se per esempio in questo momento stesse piovendo noi diremmo it's rainy mi raccomando rainy la r ragazzi io vi ricordo che non è la nostra r italiana ma è la r inglese la r inglese si fa arrotolando la lingua all'indietro verso il palato quindi rainy e qua abbiamo la pioggia ma se per esempio troviamo una giornata dove c'è per esempio il tanto vento quindi vogliamo dire che c'è vento oppure è ventoso diremmo diremmo quindi 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 perché ragazzi wind e vento quindi se noi poi aggiungiamo la la y alla fine che sarebbe la y sarebbe windy quindi adesso passiamo al prossimo al prossimo tempo il prossimo tempo è foghi 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 ragazzi fortunatamente è un tempo che noi qua a palermo non abbiamo o comunque se abbiamo quelle pochissime volte o almeno insomma come ci dice vincenzo dolce candle in the wind si bravissimo intanto voi continuate a ripetere nei commenti insieme a me mi raccomando così ci alleniamo insieme quindi foghi foghi è un tempo tipico per esempio di milano quindi perché foghi vuol dire che c'è la nebbia nebbia è fog con aggiungiamo g y ragazzi vi ho fatto lo spelling in inglese quindi g y e diventa foghi quindi nebbioso però che cosa succede se ovviamente abbiamo la tempesta ovviamente se noi abbiamo la tempesta ragazzi il che anche qua a palermo può capitare abbiamo il tempo diventa stormy 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 e quindi ragazzi in stormy che ovviamente vuol dire che c'è la tempesta avremmo ovviamente la nuvola con il fulmine ragazzi apprezzate pure i miei disegnini che ci ho messo tanto tempo per fare quindi e poi abbiamo come ultimo tempo abbiamo la neve quindi nevoso possiamo dire ovviamente si dice snowy 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 ovviamente è un tempo che qua a palermo rarissime volte almeno io da che da che sono nata ho visto c'è stato il capodanno di qualche anno fa dove ha nevicato non solo sulle montagne ma anche per la strada e quindi in quel caso ovviamente ragazzi ricordatevi sempre it's it's snowy vincenzo ci dice desert storm la prima guerra del golfo sì bravissimo vincenzo bravissimo mi raccomando voi continuate a ripetere ragazzi mi raccomando è molto importante ah dice nel 2015 quindi abbiamo what's the weather like è la domanda per dire che tempo fa ovviamente ragazzi noi stiamo parlando al presente quindi noi potremmo per essere più specifici noi potremmo aggiungere what's the weather like today per essere proprio specifici ovviamente ragazzi noi poi potremmo chiedere anche il tempo riguardo a ieri riguardo a domani però al momento limitiamoci diciamo al presente quindi che tempo fa è la domanda la risposta sarà it's e poi se è soleggiato sunny se è nuvoloso cloudy se sta piovendo rainy se è ventoso windy se c'è la nebbia foggy se c'è la tempesta stormy se invece c'è la neve snowy ma adesso ragazzi andiamo un attimino a vedere anche la temperatura la temperatura ovviamente noi sappiamo che possiamo dire anche c'è freddo c'è caldo è tiepido quindi adesso adesso vediamo un attimino allora partiamo ovviamente dalle temperature più fredde e poi andiamo mano a mano verso il caldo allora per esempio quando noi dobbiamo dire che c'è molto freddo tipo freddo gelido sarà freezing cold questo è freddo gelido mentre invece se avremo se abbiamo solo freddo abbiamo cold quindi cold ciao simona cold se andiamo invece verso delle temperature più miti tipo quella che stiamo avendo in questo periodo anzi almeno oggi avremmo warm quindi warm quindi warm ragazzi state attenti a questa r mi raccomando perché quando la r ripeto è in mezzo solitamente gli inglesi britannici non la pronunciano gli inglesi americani invece un po' si sente quindi warm 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 dolce vincenzo dice si può dire anche very cold sì allora si può dire very cold ma very cold ovviamente ragazzi c'è molto freddo però non è freezing cold freezing cold è proprio freddo gelido e c'è proprio tipo il ghiaccio ci siamo ovviamente ragazzi è un tempo che da noi raramente c'è fortunatamente però è un po' diverso che dire very cold e poi ragazzi abbiamo il tempo quindi questo warm è un caldo però un caldo tiepido mentre invece ragazzi avremo il caldo quello proprio bello tosto come abbiamo noi in sicilia d'estate ragazzi che raggiungiamo i 40 gradi e anche di più avremo hot mi raccomando ragazzi la h di hot va aspirata mi raccomando hot ci siamo quindi fate finta che già state boccheggiando dal caldo così vi viene meglio ripetere la h ok e poi abbiamo il tempo per esempio come qua potremmo 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 avere un tempo umido quindi avremmo i humid humid e poi damp 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 oppure oppure potremmo anche avere un caldo umido quindi humid heat humid heat humid heat adesso ragazzi quindi Maria Giulia salutami la mamma sì te la saluto va bene allora quindi ricapitoliamo le temperature allora freezing cold che è freddo gelido ragazzi poi abbiamo cold che è freddo poi abbiamo warm che è un caldo che però tiepido tipo queste giornate di marzo come oggi e poi avremmo hot che è proprio un caldo tipo 40 gradi all'ombra e poi abbiamo humid damp che vogliono dire umido e poi abbiamo caldo umido che è humid heat quindi humid heat mi raccomando ragazzi state attenti alla H la H in questi casi va sempre aspirata quindi ci siamo? avete capito tutto finora ragazzi mi state seguendo? spero di sì e allora continuiamo ovviamente con per esempio nel caso di una tempesta noi avremmo il lampo ovviamente e poi il tuono quindi questi due come si dicono? allora lampo ovviamente ragazzi che è la luce che viene prima appunto del rumore è lightning 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 poi abbiamo ovviamente il rumore quindi il tuono tuono thunder 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 ricordatevi ragazzi il TH questo TH ragazzi è differente da questo o da questo perché F non è V ma è F ricordatevelo mi raccomando adesso ragazzi andiamo a vedere come ultima cosa andiamo a vedere un po' qualche frase che noi possiamo dire anziché dire solamente it's sunny it's cloudy it's rainy eccetera eccetera quindi ovviamente ragazzi questi sono questo è il tempo atmosferico principale ma ce ne possono essere tanti altri quindi questi sono quelli principali per esempio una frase che noi potremmo dire it's pouring rain rain it's pouring rain it's pouring rain pouring pouring ragazzi è pour il verbo pour qua è nella forma in ing significa versare solitamente quindi significa appunto in questo caso it's pouring rain che sta cadendo tanta pioggia quindi sta piovendo tanto quindi it's pouring rain per dire che sta piovendo tanto quindi non è quella semplice pioggerella no? ma che proprio sta piovendo mentre invece ragazzi avremmo forse questo è molto è molto famoso forse questo lo conoscete perché è un'espressione è un modo di dire tipico proprio degli inglesi ed è it's raining cats and dogs it's raining cats and dogs it's raining cats and dogs che letteralmente significa stanno piovendo cani e gatti anzi no gatti scusate e cani non ci confondiamo perché insomma altrimenti quindi stanno piovendo gatti e cani ma come sapete ragazzi dire stanno piovendo gatti e cani ovviamente non ha nessun senso ma è un'espressione idiomatica quindi un modo di dire che significa che sta diluviando proprio sta veramente sta veramente diluviando quindi quando piove proprio pesantemente diciamo it's raining cats and dogs poi intanto ragazzi vedo un po' qualche commento ok perfetto adesso poi potremmo anche dire per esempio come in questo caso di belle giornate the sun is shining the sun is shining vincenzo dolce ci dice it's raining man si allora it's raining man ovviamente è il titolo di una famosa canzone ma in questo caso si in questo caso è un'altra cosa ragazzi però dai sempre attinente con con il tempo dai questi riferimenti alla musica alle canzoni aiutano tanto quindi the sun is shining quindi il sole sta brillando quindi sta splendendo nel cielo in questo caso quindi sta splendendo oppure the suns come out the suns come out ragazzi questa abbreviazione qui che è apostrofo s non è il verbo essere che io vi ho insegnato è un altro tipo di abbrevazione che poi vedremo in seguito the suns come out the suns come out quindi noi diremmo in italiano è spuntato il sole quindi ci siamo ok ok the sun has come out the suns come out the suns come out adesso invece abbiamo the suns just gone in the suns just gone in ovviamente apostrofo s come qui non vuol dire non è l'abbreviazione del verbo essere ragazzi vuol dire the suns just gone in quindi il sole è scomparso in questo caso quindi quando noi appunto abbiamo una giornata di sole per esempio come adesso e magari questo pomeriggio no comincia a fare un po' più nuvoloso diciamo il periodo il momento di transizione ovviamente noi diremmo the suns just gone in quindi è scomparso e poi abbiamo the sky is overcast the sky is overcast the sky is overcast the sky is overcast significa che il sole è coperto quindi è nuvoloso quindi the sky is overcast quindi adesso vediamo un po' di commenti quindi qua praticamente vi state prendendo in giro e carlo dice se chiede se faustino sta seguendo la lezione david ovviamente certo parlerà con te solo in inglese fantastico mi raccomando anzi un bacio a faustino direi che non è mai troppo presto per cominciare appunto con queste lezioni con queste lezioni in inglese ragazzi anzi prima si comincia meglio è ma anche chi comincia un pochino più tardi non disperate perché avete speranza anche voi quindi piano piano magari ci mettete un po' più tempo degli altri ma piano piano ce la farete quindi state tranquilli quindi ragazzi questa è la lezione di oggi ovviamente io spero che vi sia piaciuta ovviamente quindi ditemi se avete dubbi avete tutto chiaro avete capito tutto ragazzi tutto tutto a posto io aspetto ancora qualche secondo per darvi il tempo di rispondere eventualmente se avete dubbi domande qualcosa ovviamente io vi ringrazio sempre tutti per per seguirmi sempre con con tanto affetto quindi ricordatevi ragazzi che queste puntate ovviamente sono caricate anche su canale youtube uniamoci hollus quindi chi eventualmente si fosse perso le puntate su facebook a parte che può sempre comunque ritrovarle qui su facebook ma può anche andare sul sul canale youtube dell'associazione uniamoci hollus e le trova anche lì quindi state tranquilli siamo ovunque non vi lasceremo da soli silvia mi dice bravissima come sempre grazie silvia grazie mille allora io ovviamente eleonora mi dice tutto ok perfetto mi fa piacere ragazzi allora io per oggi appunto ho finito quindi mi raccomando io vi invito a ricollegarvi domani per la prossima puntata del nostro corso di inglese ringrazio tutti per avermi seguito ringrazio sempre appunto di tutti i complimenti che fate di tutti i commenti che lasciate quindi vi auguro un buon pranzo da giulia e dall'associazione uniamoci hollus è tutto grazie per avermi seguito ci vediamo domani ciao ciao